Amico di tutti nell'ambiente dello spettacolo, della cultura e dell'arte. Quando alza il telefono Angelo e dice che sono un ambasciatore del sorriso con il suo personaggio che a livello nazionale e internazionale lui rappresenta ovvero la vostra identità, il Puccinella, non possiamo fare altro che fargli un grande applauso ad Angelo Giannello. Grazie a tutti voi, ci tenevo a dire che sono legato alla città di Pisciano, non solo per la Santa ma è una terra di cultura, io sono stato a Napoli l'altro giorno e tutti gli attori tra cui anche Giacomo Rizzo si parlava benissimo di questa rassegna teatrale, quindi se tutto ciò avviene grazie anche al sindaco all'amministrazione comunale e quindi facciamo all'amministrazione comunale di Pisciano un grosso, grosso